Una nottata decisamente turbolenta, quella dello scorso sabato sera al Grande Fratello Vip. Un colpo di scena è avvenuto, quello che molti si aspettavano già. Delia e Soleil si sono baciate e con passione. Un momento davvero hot scattato all'improvviso nelle scale della casa, durante la Festa Wild organizzata dal Grande Fratello. L'ho tirata e ci siamo baciate, racconta Soleil all'amica Sophie. Ma subito dopo, una lida inevitabile con Alex Belli. Prima i due parlano nella sauna e Soleil inizia già a dare di matto per le parole di Alex Belli. Successivamente gli dirà di amarlo. E poi scoppierà in una crisi di nervi. Questa è la verità e non dire che... Dopo tutto quello che cazzo ho protetto e tutelato di te, tu ti permetti a dire questa cosa che è la più grande voce che io abbia mai sentito sul mio conto. E adesso gli shut the fuck up and stop talking bullshit on my heart. Che schifo fai per la tua stessa essere codardo. Ma non è codardo, questa è verità, non ti sto incolpando, questa è la verità, puoi sempre girare le robe. Questo è bocce, non è girare le cose. Perché le puoi girare sempre? Io non ho bisogno di girare un cazzo. Cioè basta. Te l'ho sempre detto che ti amo, di che cazzo stai parlando? Non ho mai voluto un rapporto con te, non ho mai voluto andare oltre. E allora? No, lo so il cazzo. No, basta il cazzo, adesso ammetti tu, mi sono rotta il cazzo. Avere, lo ammetto. Ok, perfetto. Basta, mi dispiace. Ti dispiace cosa? No, basta, mi dispiace. Lo dici, senza affesa, ma lo dici Adelia. Basta, mi dispiace, adesso mi spieghi da tu che ti sei appena permesso di dirmi e buttarmi addosso della roba che lo sai che fa schifo e che non è quello che sono. Tu adesso ti rimangi tutto. Va bene, mi rimangio tutto, basta. Hai detto stronzate lì sul mio conto. Va bene, no, non detto stronzate, ho detto solo la verità. Non è vero, che io sono una persona che raggira cose, che cerca di bibi bibi bibi. Sono tutte stronzate. Con me ogni tanto raggiri, ma ci sta, va bene. Non raggiro un cazzo. Perché va in protezione, ma non è una cosa. Non è quello, tu sei andato in protezione. Ma sì, ma anche tu ogni tanto vai in protezione, basta. Non è successo ma basta, non sono scenantica. Questa è la verità, porca troia. Perché mi faceva questa merda? Dov'è la capoglio? Insomma, un bel casino quello che è successo ieri sera nella casa del grande fratello. Stavolta è davvero difficile comprendere le motivazioni che hanno spinto i tre ad agire così.